Tutto pronto a sorso per la quinta giornata nazionale della camminata tra gli olivi, iniziativa promossa dall'Associazione Città dell'Olio, che domenica 24 ottobre si svolgerà in 140 città di tutta Italia, di cui 17 in Sardegna. Un'occasione per conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire a tanti appassionati il patrimonio olivicolo del territorio e l'origine del prodotto attraverso gli alberi e gli uomini che lo custodiscono. L'iniziativa presentata questa mattina a Palazzo Baronale dall'Assessore al Turismo e Attività Produttive Marco Greco, dalla Presidente della Solisa, Maria Pina Casula e la titolare del Frantoio Uggias, Giorgia Uggias, è stata inserita nel programma della rassegna d'olio ed intorni. La manifestazione, in calendario da oggi fino al 24 ottobre, dedicata alle preziose produzioni del territorio e interamente organizzata dall'amministrazione comunale con la collaborazione dell'organizzazione produttori a Solisa. Si partirà dallo spazio davanti alla biblioteca comunale in via Silienti, in un tragitto che avrà la sua prima tappa nella secentesca fontana della Billellera e nel lavatoio di Maiori, con le guide dell'info point del comune che illustreranno le caratteristiche storiche ed architettoniche del sito monumentale. Si proseguirà lungo l'agro ulivettato, dove si farà tappa in alcuni tra i più antichi ulivetti del territorio per scoprire tecniche di coltivazione, di raccolta e trasformazione, per arrivare al vasto pianoro che custodisce il Pozzo Sacro di Serraniedda.